Buon appetito a tutti i miei miei Dreyclani, siamo qui finalmente ritornati su Web6XG a portare il nascondino oggi ragazzi siamo qui con salutate ciao ok oggi siamo qui in Grattacieli loro si stanno intanto a nascondendo credo che abbiano finito il nascondo si è visto che il tempo è finito allora io direi di entrare eh eh dal bagno che bello il bagno chi è che usa? bene e il primo chi era il primo? Eagle ci ha già lasciato il primo che mi uccide con trappole sperando che non avete piazzato Capca una cosa del genere perché non ci guardo no quindi speriamo oggi vado un po' a mucchio perché non c'ho voglia di andare piano per piano oggi vado alla Carlona la cazza di cane allora pazzi se vi siete messi vicino alla bomba oh oh strano non ci siete bene ah qui lo svegliate fino a spinato se c'è una bomba perché ho sentito un rumore a posto ad esempio younger che si sposta che è morto ora? ah furious allora dopo ci vado con un paratore leggero così a metere a meno mi ci vuole di più a correre se mi suicidavo con il puffo mi incazzavo di brutto come lo mettiamo? chi è morto ora? chi mi fa vedere? io sono l'unico curativo attenzione pagliaccio è l'ultimo rimasto c'è gli dovresti dare tre minuti c'è questa questa mappa è stato c'è questo l'anno è nato iper ultra veloce veramente vabbè anche la mappa non è che sia il massimo per nascondersi però ho visto che è ormai di mappa stanno quasi per esaurire ormai allora dove sei di bello? ciao veramente esabili il cardio senoratore lì è esabili così vedevi dove ero quanto tempo fa quando ero ancora in vita sto arrivando tanto te la sei bufata chi è questo? io so il mano io so non lo so ancora bello il gas posso pilotare il drone quindi ho pilotato il drone io voglio morire allora qua qualcuno è entrato qua vediamo se c'è un altro pazzo che si è messo qua no ok e andiamo a vedere questo secondo piano primo piano dipendentemente da come uno decide di chiamarlo vediamo un po' no bene il drone dietro di te io col drone ho visto infatti ok ma se rimango da solo ultimo ti posso chillare in realtà no dove sei andato? eh ma allora ti sono venuto a prendere ecco dove sono andato il bagno non c'è nessuno ha trovato uno mi sa ciao Ash no 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 manca quello che usa il drone pensavo che fosse Ash tutti mi sono i drone invece no beh si però quello che mi sta attaccato al culo dal secondo piano che tra due secondi lo distruggo no scherzo mi piace il rumorino del drone ma ti posso chillare quindi? no no perché sei ritornato lì? è proprio chiuso cioè o andavi dal gas o andavi dal gas avevi proprio due scelte o andavi da me ebbè bene facciamo l'ultimo round 1 1 5 4 3 2 1 eccomi chi è il primo che morirà? secondo voi? dai io no non ancora io non so Igor il primo che morirà sono Eto come l'ho detto brutale Eto morto poveretto chi è morto? younger quindi questo è infuriose eh cos'è quindi mamma ma è proprio fasto ecco allora questo è infuriose guarda me chi è che mette lo scuro in cucina? eh proprio non sconti perfetto almeno mi troverai mai ma vediamo cazzo lo trovo ora ho sentito dei rumori vediamo 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 è morto è morto no chi è questo qui? ne manca uno oh ragazzi questa mappa su questa mappa sono scatenato si allora raccontavo io farò una cosa per prolungare il video facciamo un bellissimo minigioco e adesso ti dico cosa bisogna fare prima ti devo trovare poi io ci non arriverai mai no no ti troverò tranquillo che ti troverò allora già che sono arrivato a questo punto devo dire che non ho controllato bene il primo piano mappa chi ti senti in piedi adesso una domanda ma è obbligatorio il nostro riciclato a casa ah sì eh sì è ovvio ovvio io sono intanto ok sto non avvero ma ci sto vedendo non è un altro con nessuna cosa al mondo è l'ultimo mi sono anche giocato adesso è così mi sono andata la telecamera attenzione si lo spostò abbondantemente bene dietro tavoli no ho sentito il rumore non vorrei che fossi io stesso mi sa che ero io allora controlliamo meglio questo piano qua dove sono entrate sono stato così tanto cieco stanza rescia no qua neanche ah il nostro ragazzolo si è messo bene poi adesso scopro che in un posto del cazzo in realtà soltanto che sono io ritardato ma sì infatti ma come fai a non trovarmi dico io no senti già sto filo spinato mi sta su le palle peccato che non posso far saltare l'ho messo io ecco ecco ma vedi te vediamo le 22 divana ma dove minchia sei dai non posso si non ho detto no guarda la tua palla no posso essere ancora là è nel bagno nessuno ha detto niente basta non è che mi fai questi giochetti poi adesso si scopre che è veramente in bagno io lo pio in culo ma dove cazzo si è messo sono in tre tavoli te l'ho meglio in tre tavoli no è vicino a una bomba è questo l'indice ma chi è che rimane io che grande io chi è che rimane io è tipo quando suoni al citofono ti fanno si pronto chi è io o quando ti chiamano al telefono si pronto chi è io io che cazzo se ti chiedo chi sei ti dico ho sentito di te si ci devo anche credere ti ho sentito ci stai facendo mi sei passato avanti no non ci posso credere ti dico molte volte si fa sconchino io sparo eh no è fuori no non ci credo ero in tre l'elicottero ma dai ma che bastardo bene tanto che ti è piaciuto trollarmi così allora adesso vi mettete tutti fuori dove sono dove è l'elicottero ma aspettate lì facciamo bene se non mi ne gioco vada venga avanti venga qua venga 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 Ivana venga allora adesso ti farò una domanda se rispondi in modo corretto sei vivo se rispondi in modo sbagliato sei morto qui c'è sul tuo canale aspetta fammi pensare alla domanda quale è stata la mappa che si poteva giocare nella beta di Remus X Seeds dai mi ci rispondi ah beh se è sorrindo non so io non mi ricordo dai dai e poi perché non ci ho mai giocato nella beta hai tre secondi tre io non l'ho mai giocata la beta due io ho scaricato quattro giorni fa uno banca banca la tua risposta spara a caso è banca venga avanti capitano venga venga la prossima domanda è eh cosiddetto quanti danni fa la pistola di cavera io lo so io lo so ho scaricato prima di tre giorni ok vada dietro Ash venga qua ti fai in fila io non mi chiamo vai Dilla Dilla venga qua venga Ash ti do tre secondi per venire qua tre ma che fa ma se mi fa due ok quante cariche di Fuse quindi quante granate a grappolo aveva Fuse prima dell'ultima giornata prima dell'aggiornamento di Giacca vale meno tre secondi prima eh prima dell'aggiornamento Giaccio vai Giaccio vai vai bene Blitz venga due erano due allora quali sono i due operatori del secondo DLC del primo season due operatori del primo DLC del secondo cioè del primo season del secondo DLC hai tre secondi tre due giustizia mia Valkyrie a Blackboard venga Capitao venga io l'ho già fatto eh ma eh vediamo quanto resisti vai quali no dai questo sta stronzi ehm ah fammi pensare quanti operatori con gli scudi ci sono in Rainbow Six Siege ma comprese le reclute comprese le reclute allora tre sei 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 ci sono tre recordi con lo scudo e tre operatori normali con lo scudo vabbè fatevi dimmene quattro però vabbè va bene va bene fammi pensare un'altra oddio 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 quello che quello che sei ah quanti colpi ha l'M1911 di Ash e di Thermite la pistola di Thermite di Ash di Pulse e di Castle tutte sei come no no mi ha sette vai di cosa stai dicendo si vai a vedere questo lo devo vedere lo devo vedere va bene comunque tanto dovevo concludere l'episodio però dai sei stato bravo sei quello che sa più di tutti Rainbow quindi ragazzi spero che comunque il video vi sia piaciuto ringrazio il loro 4 eh bastava solo che sapessi Black Ops 1 quando hai mai giocato a B1 o a ICOD lo sapevi l'M1911 comunque spero che comunque il video vi sia piaciuto lasciate like un commento ringrazio il loro 4 salutate ciao bella sera noi ci vediamo domani con un prossimo video bella rega